Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati con il primo appuntamento della nuova edizione 2024 di B2Better, i webinar organizzati da editrice industriale, dedicati ai professionisti e tenuti dai professionisti che operano nel settore laboratoristico, industriale, chimico e biologico. Con il talk di quest'oggi, che apre questa nuova serie, affrontiamo un argomento che va ad interessare la quotidianità di una vasta gamma di laboratori scientifici. Parleremo infatti di soluzioni e supporti informatici utili ad implementare la gestione delle procedure coinvolte in laboratorio e ad organizzare nel modo più efficace i dati raccolti in seguito ad un processo di analisi. Perché è importante prevedere un supporto software da affiancare alle attività di analisi, sia che si tratti di ricerca che di produzione? Se scendiamo nel dettaglio dell'operatività di un laboratorio scientifico, ci si rende conto che in effetti, oltre a un altro grado di precisione necessaria per eseguire dei test o delle misure, una forma di rigore questa che nell'applicazione di varie metodologie che naturalmente viene assicurata intanto dalla presenza e dalla preparazione dei singoli operatori, oltre a questa forma di attenzione, in laboratorio emerge l'esigenza di garantire anche la possibilità di un accurato monitoraggio e controllo della gestione stessa del governo, potremmo dire, di tutte le attività di laboratorio introdotte e della struttura dati finale. Vale a dire, per esempio, riuscire a pianificare a monte con chiarezza tutte le fasi di lavoro previste e a tracciare le singole operazioni svolte, registrando e prendendo nota di tutto quello che succede. Uno strumento che aiuta a migliorare in questo senso la gestione del workflow, del flusso di lavoro, è certamente il paderno elettronico di laboratorio, una soluzione che è stata sviluppata inizialmente in ambito di ricerca, per essere poi introdotta in diverse tipologie di laboratori scientifici, in concomitanza e grazie anche allo sviluppo e all'evoluzione di internet e del cloud negli ultimi decenni. Di questo e di alcune novità introdotte in questo settore, ne discutiamo insieme ai nostri ospiti, che ho il piacere di presentarvi. Sono il dottor Ivan Fagiolino, chimico e direttore di laboratorio e dell'area tecnica industriale del gruppo Centro Studi Ambientali di Rimini, che ci introdurrà a questi temi illustrando la sua esperienza e parlando dei principali vantaggi offerti dai supporti informatici utilizzati in laboratorio e nei processi produttivi e che consentono in effetti di ottimizzare le produzioni sotto diversi punti di vista. A seguire interverrà la dottoressa Elena Bergeon, biologa di Polisystem Informatica, che si occupa del supporto tecnico operativo nell'implementazione delle tecnologie LIMS, che ci descriverà più in dettaglio come è possibile strutturare le attività di laboratorio in modo da garantire una piena tracciabilità attraverso una particolare soluzione ILN, cioè di quaderno elettronico di laboratorio, integrata nell'IMS e progettata per la gestione e la creazione di specifici flussi di lavoro parametrizzabili. Benvenuti e grazie ad entrambi. Io ricordo intanto al pubblico che ci sta seguendo che chi vuole può fare delle domande ai nostri relatori scrivendole nella chat che trovate alla vostra destra. A conclusione degli interventi cercheremo di rispondere a tutte le domande. Se il tempo a disposizione non ce lo consentirà, i nostri ospiti poi risponderanno comunque in un secondo momento o in differita. Il webinar verrà registrato e sarà reso disponibile sui nostri siti nei prossimi giorni. Passo quindi senz'altro subito la parola al primo relatore, il dottor Ivan Fagiolino. Molte grazie per essere qui con noi. Prego a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Come riportato nell'introduzione oggi vorrei parlare dei principali vantaggi che i processi produttivi usufruiscono dall'utilizzo di strumenti informatici innovativi e permettono a sistemi come i laboratori chimici, in questo caso quello che rappresento il gruppo CSA di Rimino, il laboratorio chimico ambientale, un miglioramento in vari aspetti della filiera del processo lavorativo. Garantire la massima efficienza e la massima produttività è sicuramente un obiettivo che le aziende si stanno ponendo per aggredire i mercati, per essere competitivi sui mercati. L'aiuto di questi sistemi permettono sicuramente di automatizzare molte attività che solitamente nella prassi comune richiedono tempo e risorse umane. In questo modo si riduce alcuni aspetti dell'attività lavorativa utilizzando dei sistemi informatici che vanno sempre a interagire con i LIMS di laboratorio. L'altro fattore molto importante, molto richiesto nell'ultimo periodo è quello di arrivare al fattore importante dell'eliminazione della carta che oltre a un inevitabile miglioramento dello spreco della carta stessa, significa anche una maggior robustezza delle informazioni che si pongono all'interno dei sistemi informatici e dei sistemi LIMS che vanno ad alimentare le informazioni tecniche e analitiche di strutture come i laboratori. Un altro importante aspetto che questi sistemi permettono è il monitoraggio in tempo reale dei processi produttivi. Avere sotto controllo il processo produttivo in questo momento è un obiettivo da raggiungere perché oltre all'ottimizzazione dei processi stessi le tempistiche sono un altro fattore che rilevano un'importanza assoluta all'interno dei laboratori perché individuano sostanzialmente le principali criticità quando ci sono dei rallentamenti, ci sono dei ritardi permettendo poi alle persone che sono imputate per la gestione dei processi di intervenire in modo tempestivo e correggere eventuali criticità di processo. Il monitoraggio permette anche di vedere come il carico di lavoro si riversa all'interno dell'edità produttiva e porre i maggiori e migliori rimedi al fine che questo sistema possa risolvere le criticità che si possono identificare. I sistemi informatici permettono di avere alert, permettono di avere informazioni puntuali nel momento che vengono utilizzati con costanza e con capilarità all'interno di una struttura. Un altro aspetto fondamentale sempre legato al processo produttivo che può essere, come nel caso che rappresento io, un processo laboratoristico e l'ottimizzazione della pianificazione. Questo per vedere in tempo reale o comunque fare un'analisi delle principali caratteristiche del workflow lavorativo per rendere più efficiente l'avidità produttiva lavorando sui carichi di lavoro, sulle postazioni di lavoro e sulle risorse umane. Tenendo conto che ogni processo e in ogni passaggio intervengono contemporaneamente sempre una parte macchina e una parte uomo. Conseguentemente la pianificazione del lavoro per poi avere una maggiore ottimizzazione del prodotto finito è sicuramente un punto molto importante dell'utilizzo di questi strumenti. La pianificazione richiede una massima attenzione soprattutto nell'analisi del processo che viene fatta possibilmente in tempi ristretti soprattutto se si hanno tempistiche di consegna dei lavori che sono ridotte o che comunque sono tempistiche molto strette per le normativi vigenti, per le analisi di elementi specifici, facciamo un esempio banale come tutta l'analisi microbiologica delle acque potabili che richiedono dei tempi molto stretti di risposta e pianificare in anticipo e utilizzare strumenti che permettono di verificare il carico di lavoro del laboratorio consentono una migliore risposta e una migliore penetrazione del mercato. Il mercato chiede tempi certi e solitamente questi tempi certi sono ridotti come c'è scritto nella slide e soprattutto nelle attività di autocontrollo basti pensare a tutte le aziende che si occupano di controllo periodico e giornaliero della potabilità dell'acqua che arriva ai nostri rubinetti giornalmente. L'utilizzo di questi sistemi aumenta e migliora sicuramente anche la qualità del prodotto riuscendo a intrappolare tutte le informazioni all'interno di un unico contenitore e rendere possibile la tracciabilità dei processi stessi che consentono di avere la possibilità di vedere e ritornare sui processi eventualmente se ci sono delle particolari criticità dei difetti o degli errori che si possono riscontrare. Sostanzialmente l'utilizzo di questo aspetto è fondamentale per i laboratori che lavorano sotto i sistemi 17.025 di qualità. Quindi i supporti informatici sono necessari, sono sicuramente consigliati per sistemi che hanno diverse step al loro interno. Il flusso di lavoro viene dettato sempre dal fatto che un processo passa al successivo se quello precedente è terminato. Conseguentemente avere rintracciabilità e avere conoscenze immediate e quindi poter monitorare in tempo reale questi aspetti permettono a chi preposto per la controlla e la verifica della gestione del flusso lavorativo uno strumento che gli permette di intervenire in modo tempestivo e a ritroso nell'analizzare queste informazioni per porre poi valutazioni ed eventuali rimedi allo stesso processo. In poche parole questi sistemi aiutano l'evoluzione dei processi laboratoristici o comunque in generale produttivi perché col passare del tempo gli stessi processi sono cambiati, hanno bisogno di cambiamenti per stare al passo con il mercato e con le innovazioni. Oltre a processi informatici di questo genere che agiscono in collaborazione con i sistemi informatici analitici in senso stretto hanno la possibilità di permettere una visione più complessiva del lavoro tenendo considerato il fatto che i prodotti che all'interno del laboratorio devono essere eseguiti aumentano di complessità, aumentano di casistiche e quindi hanno necessariamente bisogno di un controllo che non può essere solo quello che nel passato si faceva con il quaderno di laboratorio con strumenti spesso cartacei, checklist o via dicendo che però venivano passate queste informazioni a livello cartaceo. Conseguentemente l'utilizzo di questi sistemi migliora l'insieme del processo lavorativo, aiuta gli operatori ad avere una visione istantanea del processo e quindi tutti questi fattori permettono agli stessi operatori di intervenire in modo tempestivo dando un importante quadro di insieme delle proprie operazioni lavorative. Tutto è legato e tutto è concentrato sempre su una maggiore produttività e una riduzione dei tempi che alcuni processi che vengono gestiti in modalità diciamo cartacea comportano. Conseguentemente si va verso un miglioramento dei cicli produttivi soprattutto sull'aspetto dell'efficienza e del rapporto che si può avere fra la conoscenza del processo perché ogni persona, ogni sistema, ogni industria e ogni laboratorio in questo caso come rappresento io ha una sua filosofia di impostazione del lavoro. Questo dialoga con questi sistemi informatici al fine di migliorare il proprio processo produttivo. Non esiste una soluzione standard per tutti ma sicuramente esiste una soluzione customer per tutti nel senso che le proprie filosofie vengono dialogate, vengono riportate a sistemi informatici o comunque aziende, software house informatiche con le quali il dialogo permette di costruire un processo produttivo controllato da o implementato da sistemi informatici al fine di migliorare il proprio workflow. Io ho terminato e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie, molte grazie dottor Fagiolino per questo suo intervento, quindi sembra di capire che ci sono diverse ricadute positive, tanti benefici che si possono trarre dall'introduzione di supporti informatici in diversi contesti laboratoriali. Quindi in attesa magari di qualche curiosità dal pubblico per approfondire, io ricordo che si possono fare delle domande ai nostri ospiti inviandole nella finestra di dialogo alla destra dello schermo e a fine degli interventi desicheremo uno spazio per il question time. Quindi possiamo proseguire come da programma con la dottoressa Elena Bergeon di Polisistemi Informatica che ci parlerà di particolari e nuove applicazioni di ILN, cioè Electronic Laboratory Notebook, cioè di quaderno elettronico di laboratorio. Prego dottoressa Bergeon, benvenuta, grazie anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare il dottor Fagiolino per il prezioso e interessante intervento. Chi meglio di lui può sapere, visto che lavora attivamente all'interno di un laboratorio, quanto la tracciabilità e la flessibilità siano importanti per il laboratorio stesso. Il mio intervento quindi oggi si concentrerà su questi due aspetti, focalizzando l'attenzione ad uno strumento che si sta modernizzando e che aiuta a definire e a personalizzare i processi analitici di laboratorio. Parliamo quindi di quaderno elettronico di laboratorio. Facciamo una piccola introduzione generale. Il quaderno elettronico di laboratorio è una soluzione che ci permette di gestire ed organizzare i processi interni al laboratorio, quindi i risultati che derivano dalle nostre analisi. È uno strumento che nasce dalla sostituzione del tradizionale quaderno cartaceo che, passatemi il termine, è diventato ormai obsoleto e che presentava effettivamente numerosi inconvenienti sia in materia di sicurezza che in materia di integrità del dato. Il quaderno elettronico di laboratorio è stato originariamente utilizzato in ambito di ricerca e si sta sempre più avvicinando a tutte le tipologie di laboratorio. Veniva usato dagli universitari e da parte dei ricercatori per tenere traccia di tutte le informazioni legate ad un esperimento e anche per avere un documento che avesse un valore legale a quel tempo. Il primo concetto è nato negli anni Ottanta, simultaneamente alla comparsa dei primi personal computer, ma i veri e propri ELN sono stati sviluppati poi da aziende private negli anni 90. Negli anni 2000 poi con l'ascesa di internet e di tutti i software in cloud ovviamente si sono sempre più evoluti e per le loro caratteristiche di efficienza, versatilità e anche accessibilità vengono sfruttati all'interno dei laboratori più svariati. Laboratori che potrebbero essere chimici ovviamente e microbiologici, anche conto terzi, dove troviamo all'interno di questi laboratori delle dinamiche e delle esigenze molto particolari che richiedono effettivamente dei quaderni elettronici specifici e flessibili. Questo cosa significa? Significa che ogni laboratorio più o meno grande deve avere la possibilità di scegliere e di adattare il proprio quaderno di laboratorio alle proprie esigenze sia di analisi che di struttura e quindi deve legare il proprio quaderno di laboratorio a tutti i workflow all'interno del proprio laboratorio. Un'esigenza fondamentale per i laboratori chimici e microbiologici che siano accreditati è quella di tener traccia di tutte le operazioni, quindi di tutti gli inserimenti e di tutte le modifiche che si effettuano all'interno del nostro LIMS, all'interno del nostro ELN. Ogni processo analitico deve avere quindi una tracciabilità, deve avere una tracciabilità strutturata e deve rispondere ad eventuali ispezioni, siano in sé Accredia, FDA e così via e deve dimostrare la propria solidità. Quindi un quaderno elettronico che viene scelto all'interno del laboratorio deve rispettare questi requisiti ed essere in grado di far fronte ad ogni esigenza. Parliamo quindi di due parole chiave legate a questa struttura, flessibilità e tracciabilità, ma entriamo un attimo nel dettaglio. Partiamo dalla flessibilità. Cosa si intende come flessibilità quando si parla di quaderno elettronico di laboratorio? Vuol dire riuscire ad adattare il mio quaderno alle esigenze del laboratorio, significa che il quaderno è lo strumento che si adatta al laboratorio stesso e non viceversa. Dobbiamo quindi, anche come PoliSystem, cercare di creare delle soluzioni su misura in base ai processi stessi del laboratorio e riuscire a configurare liberamente il workflow. Facendo così riusciamo a gestire in maniera personalizzata, personalizzata proprio in base alle esigenze del laboratorio con cui stiamo andando a lavorare, sia le preparative che le analisi stesse. Abbiamo poi un'altra parola fondamentale che è la tracciabilità. La tracciabilità all'interno del mio LN deve essere una tracciabilità legata anche agli operatori. Dobbiamo riuscire ad inserire all'interno di un'analisi solo un operatore abilitato. Dobbiamo avere magari anche un filtro che ci dice che un operatore è abilitato o non abilitato all'analisi che stiamo andando ad eseguire. Dobbiamo avere anche una tracciabilità non scontata di orari e date, quindi ogni inserimento, ogni modifica del mio dato analitico, della mia analisi, deve essere tracciata sia a livello di orario che di data. Dobbiamo avere anche la possibilità di collegare alle mie prove, alle mie analisi, gli strumenti e i materiali che utilizzo. Avere quindi una tracciabilità completa dallo strumento al materiale utilizzato. E ultimo ma più importante è quello di avere la possibilità di salvare tutte le operazioni effettuate all'interno del mio LN, cioè avere un audit trail che mi mostra oltre alla data, all'utente che ha effettuato quella determinata modifica, al tipo di oggetto che è stato modificato, visualizzare anche il valore precedente e il valore successivo, in modo da avere una tracciabilità del valore che è stato modificato e una tracciabilità completa. Entriamo però nel vivo del nostro modulo LN, del nostro modulo di ActiveLIMS, che è il nostro nuovo software. Il nostro LN è progettato per la gestione dei flussi di lavoro all'interno del mio laboratorio e serve per offrire ai nostri scienziati di laboratorio, ai nostri analisti, una piattaforma ideale per inserire tutte le informazioni che sono legate alla mia analisi, cioè tutte le informazioni che mi servono all'interno dell'analisi. È quindi una virtualizzazione del vecchio quaderno di laboratorio cartaceo con un'interfaccia ovviamente user friendly che permette nello specifico agli operatori di inserire e di tener traccia di tutte le operazioni svolte all'interno di un'analisi con un determinato metodo. All'interno però del nostro quaderno elettronico di laboratorio dobbiamo anche tener traccia delle mie SOP, cioè delle procedure standard, procedure che mi servono per scandire le attività degli operatori. Queste procedure però, queste procedure operative devono essere supportate da dei modelli job. Che cos'è un modello job? Il modello job è una struttura parametrica che è predisposta per definire i miei specifici step all'interno di un'analisi, quindi contenuti all'interno di un'analisi e che mi aiuta a definire i passaggi sia di preparativa che di analisi previsti dal metodo. Questi modelli job hanno ovviamente delle caratteristiche, in questi modelli job possono essere inseriti il personale abilitato a quella determinata analisi. Posso anche decidere un'eventuale dipendenza da degli step precedenti, come introduceva prima il dottor Fagiolino, uno step potrebbe essere vincolato dallo step precedente. Posso inserire anche delle azioni automatiche che possono essere l'introduzione magari di file esterni, magari l'introduzione di formule, soprattutto per la microbiologia, che mi aiutano ad inserire i dati all'interno del mio LN e anche l'esigenza di caricare delle informazioni, siano esse degli allegati, delle foto e delle note, all'interno del mio job. I miei modelli job si differenziano in due categorie. Il primo modello job è un modello job previsto per metodo, cioè dove gli step all'interno del mio modello del job sono previsti a livello di metodo. Questo viene utilizzato soprattutto nelle analisi chimiche e nell'analisi magari dei metalli, dei solventi, dove tutti i miei campioni, tutte le mie analisi possono essere fatte nel medesimo istante, quindi possono essere fatti in maniera accumulativa. Il secondo modello job invece è un modello job con degli step legati alla singola prova, cosa significa? Significa che per esempio per le prove di microbiologia, dove non posso avere tutti gli step effettuati nello stesso istante, nello stesso momento, perché magari ho delle esigenze per quanto riguarda il campione, un alimento di inoculo, di diluzione, di conta magari diverse, devo andare a prevedere e quindi a gestire uno step che sia previsto per la singola prova. Andiamo a vedere più nel dettaglio il primo modello. Parliamo di modello, quindi job per metodo. Cosa significa? Significa che noi creiamo un modello job che è basato sul metodo della mia prova, ma in questo caso tutte le mie prove, ho fatto un esempio pratico dei solventi, dei miei solventi BTX all'interno magari di una matrice a cosa all'interno del laboratorio, tutti questi solventi sono analizzati effettivamente con lo stesso metodo e nello stesso identico momento. Come vedete questa è la schermata del mio modello job, quindi la creazione della mia aliquota, l'acidificazione del campione, il caricamento del campione e l'integrazione vengono fatti nello stesso identico istante per tutti i campioni del mio job. In questo modo avrò una schermata dove vedrò che tutti gli step sono legati al mio metodo, quindi non legati alla singola prova, ma al metodo delle mie analisi. abbiamo il secondo esempio, quello del modello job per prova. Abbiamo sempre un modello legato ad un metodo, ok, pur sempre legato a un metodo, che però è specifico per ogni campione e quindi per ogni prova. In questo caso parliamo soprattutto di analisi microbiologiche, soprattutto di analisi a livello microbiologico e in questo caso ho portato l'esempio della salmonella negli alimenti. Cosa vediamo qui? Vediamo che tutti gli alimenti, tutti i miei campioni sono sottoposti alla prova in momenti diversi. Magari abbiamo effettivamente dei campioni che hanno tempi di incubazione diversi, tempi di risposta diversi. Quindi abbiamo sì un modello job che come vedete in questa schermata ha vari step come la creazione dell'aliquota, la scelta del terreno di prearricchimento, la prima incubazione, la seconda incubazione, la valutazione della crescita, ma tutti questi step sono legati, a differenza del primo caso, alla singola prova, quindi al mio singolo campione. Vedete che la schermata è cambiata, abbiamo nella parte superiore i campioni, le prove e il metodo e per ogni campione gli step legati. Quindi non parliamo più di step per metodo, ma parliamo di step per prova. Abbiamo quindi fino adesso parlato dei nostri job, ma dobbiamo andare a vedere tre caratteristiche fondamentali dei nostri job, soprattutto l'organizzazione per step. Voi vedete che tutti questi step sono inseriti dal laboratorio, sono personalizzati dal laboratorio. È il laboratorio che sceglie che step inserire, se inserire uno step vincolante e quanti step inserire. E quindi è tutto personalizzabile e configurabile da parte del laboratorio. Abbiamo anche uno stato di avanzamento dei miei job, significa che il mio job in esecuzione o magari incompletato mi permette il monitoraggio ovviamente della mia shop e quindi della mia analisi. Abbiamo anche questo come anticipato prima degli step vincolati, significa che io posso avere uno step precedente al mio che mi va a bloccare il mio step o meglio mi vincola il mio step. Una volta che lo step precedente viene completato allora si sbloccherà anche lo step successivo. C'è la possibilità di gestire a livello di job, a livello di metodo, a livello di modello job e a livello di step anche la possibilità di legare degli allegati e delle note. Ovviamente tutti gli allegati le note potrebbero essere dei file di testo, delle immagini, un pdf, tutte delle informazioni e delle note libere che vogliamo legare al mio modello job o al mio step. E poi abbiamo la registrazione cronologica. Dobbiamo tenere traccia, riuscire a tenere traccia di tutte le date e le ore di inizio di fine analisi. Come vedete in questo step c'è la registrazione sia della data di inizio, il 26 febbraio, che della data di fine e anche un orario. E come vedete c'è l'evidenza dei passaggi per esempio della creazione dell'aliquota non necessaria e del completamento di tutti i successivi step. Un'altra cosa molto importante all'interno di un laboratorio accreditato soprattutto è quello di tenere traccia all'interno del job di strumenti e materiali. Come vedete qui ho fatto l'esempio dei miei solventi. I solventi sono stati effettuati, sono stati analizzati con un gas cromatografo, quindi io ho legato il mio gas cromatografo a questa analisi. Ogni campione, ogni step e ogni job avrà uno strumento legato. La stessa cosa vale per i materiali, quindi per gli articoli di magazzino. Io posso andare ad aggiungere un articolo generico, quindi posso andare a dire che la mia analisi dei solventi l'ho fatta utilizzando il metanolo e l'acido cloridrico, ma posso addirittura andare ad inserire un lotto specifico. Quindi la tracciabilità all'interno dei passaggi di questo job è completa. Abbiamo anche delle opzioni che noi possiamo inserire all'interno del job, delle opzioni che possono essere inserite proprio a livello di step. Per esempio l'avviso delle scadenze. Cosa significa? Significa che io potrei avere per ogni step un timer, al termine del quale magari l'utente riceve un alert che mi dice, con un eventuale messaggio, che mi dice che il mio step magari è stato completato. O posso addirittura inserire una mail dove all'utente dello step successivo arriva la mail che avvisa che lo step è stato completato e che quindi può procedere con l'analisi. Posso anche confermare il mio step. Posso andare a dire che il mio step è confermato e quindi lo step successivo può essere attivato. E posso anche andare a validare. Cosa significa? Significa che è intesa una validazione come un inserimento di alcune credenziali, cioè delle credenziali del mio operatore, quindi firma intesa come un inserimento proprio di password, che mi va ad attivare lo step successivo. un altro modo per gestire la tracciabilità e quindi aiutare anche l'organizzazione all'interno di un laboratorio è quella di gestire i carichi di lavoro. Cosa significa? Significa che io da questa schermata, dalla gestione dei miei carichi di lavoro e dei job, posso andare a vedere magari all'inizio del turno di lavoro che analisi devo andare a fare, che step sono stati sbloccati precedentemente. Quindi come vedete abbiamo il numero di job, abbiamo una descrizione, abbiamo una data di inizio del mio job e anche uno stato del mio job. Nella parte bassa vediamo anche tutti i campioni legati a quel job. Quindi un operatore all'inizio del turno, alla mattina, può entrare all'interno di questa schermata, andare a vedere quali sono le operazioni, quali sono le analisi che può andare a fare e che può effettuare. Ovviamente qui vedremo solo le analisi alle quali siamo abilitati e quindi che possiamo effettivamente compiere. Un'ultima informazione e un'opzione molto utile che possiamo andare a inserire a livello del mio ultimo step del job è quella dell'acquisizione automatica di alcuni valori da uno strumento per esempio. Possiamo andare ad inserire come ultimo step l'inserimento di alcuni analiti o comunque di alcuni risultati direttamente all'interno dell'IMS tramite un file di output del mio strumento, quindi un file che abbiamo rielaborato e abbiamo legato al mio l'IMS in modo che il risultato venga collegato direttamente dallo strumento alla griglia di inserimento risultati del software. Oppure posso anche inserire un'acquisizione dati da modello. Se per esempio mi trovo in un'analisi microbiologica e ho una formula che mi aiuta nell'inserimento del mio risultato, posso andare ad inserire questa formula nell'ultimo step. In questo modo i risultati verranno importati direttamente nel mio l'IMS e non dovrò andare ad inserire manualmente con la possibilità di fare anche degli errori effettivamente quando vado a trascrivere i risultati all'interno dell'IMS. Questa cosa serve ovviamente per velocizzare anche tutto il processo analitico. Pensate invece di trascrivere i miei dati dal mio cartaceo al mio l'IMS posso andare direttamente ad inserirli da uno strumento. Concludendo quindi possiamo dire che il nostro modulo del quaderno elettronico di laboratorio è integrato all'interno del nostro software di Actin-LIMS e per legarmi all'intervento del dottor Fagelino possiamo andare a dire che aiuta per raggiungere tutti gli obiettivi di un laboratorio moderno. Quindi andare a pianificare, a automatizzare, a monitorare e a tracciare tutte le informazioni. Quindi la modernizzazione e la flessibilità di questo tipo di strumenti ci permette di avere sempre un laboratorio ovviamente conforme alle norme in vigore e sempre più alla vanguardia. Ci permette quindi di sfruttare al massimo la potenzialità del laboratorio stesso. Ecco io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricedo la parola. Bene grazie, grazie molto a lei dottoressa Verjon per la sua presentazione. Con questi strumenti la gestione del lavoro in laboratorio può essere davvero ripensata e ristrutturata con un coordinamento davvero completo. Ebbene possiamo, se i relatori sono d'accordo, possiamo passare a rispondere a qualche domanda dal pubblico. Una prima domanda per la dottoressa Verjon. Chiedono chi si troverà ad utilizzare il modulo software ELN Job. Vorremmo capire se avrà bisogno di un qualche training iniziale. Beh, certamente. Noi mettiamo a disposizione quando andiamo ad inserire il nostro ELN all'interno dell'IMS o all'interno di un laboratorio mettiamo a disposizione ovviamente una formazione, quindi un training iniziale che serve proprio per andare ad insegnare come utilizzare l'ELN all'interno del laboratorio e serve soprattutto per andare ad aiutare il laboratorio a decidere il workflow, quindi a decidere quali step inserire per metodo, come andare a gestire il modello di job, quindi se per prova o per metodo. Ovviamente diamo un aiuto a 360 gradi sia per la formazione che per l'inserimento dell'ELN all'interno del laboratorio. Ok, grazie. Una domanda per il dottor Fagiolino vuole. Se può chiarire quali sono le eventuali criticità che di solito sono monitorate, vengono individuate grazie agli interventi di monitoraggio in tempo reale nelle produzioni e nell'attività di laboratorio. Ci sono delle criticità tipiche? Sì, criticità critiche come nella presentazione fatta dalla dottoressa Brajon ha evidenziato molto bene, questi sistemi informatici permettono di fare i step successivi solo se il primo non è terminato e quindi questo fatto che la consecuzione del lavoro è legata a dei pass o comunque dei valori di accettabilità per il passato successivo permette di andare a individuare quelle criticità legate al fatto che il processo non viene svolto con i corretti step. Una delle criticità forse principali che si può individuare è anche l'errore di dimenticanza, nel senso che se uno non registra le operazioni che fa blocca il lavoro successivo. Quindi avere monitorato il processo, avere dei passaggi obbligatori permette di eliminare quei piccoli errori umani che sono legati proprio ai carichi di lavoro, a dimenticanze inevitabili a volte, che invece con un processo a più step, ma step vincolati, permette di evitarli e comunque di rintracciarli. Ok, grazie. Bene, chiaro. Un'altra domanda per la dottoressa Berjohn. Se il quaderno elettronico, gli strumenti che è presentato si possono utilizzare in tutte le tipologie di laboratorio, sono indicate per degli ambienti particolari, ambienti di lavoro più specifici? Beh, effettivamente essendo una struttura molto flessibile e personalizzabile, si può utilizzare all'interno di qualsiasi laboratorio, sia un laboratorio chimico, un laboratorio microbiologico, magari contoterzi o all'interno anche di un'università, come nasce in principio. Effettivamente vedo molto più l'utilizzo all'interno di un laboratorio anche con prove microbiologiche. Perché? Perché la microbiologia ha dei metodi con molti più step da rispettare, con molte più informazioni da inserire all'interno di questi step, quindi con note, con legami, con informazioni effettive che dobbiamo andare a legare ad ogni step e quindi anche come diceva il dottor Fagiolino, avere una programmazione di tutta l'analisi divisa per step ci evita di dimenticare magari qualche step, di dimenticare di inserire dei risultati, di dimenticare qual è un'informazione fondamentale e quindi di perdere la tracciabilità all'interno del laboratorio. Ecco, però, come vi ho fatto vedere, la flessibilità e la personalizzazione lo porta ad essere uno strumento ovviamente condivisibile per tutti i laboratori. Ok, è uno strumento molto flessibile. Un'altra domanda un po' più specifica. Gli richiedono se i modelli prova che ha descritto sono utilizzabili solo in test di microbiologia o anche in contesti di altro tipo. No, no, certo. Poi è il laboratorio in realtà che sceglie come andare a gestire. Ho fatto un esempio della microbiologia per avere anche ovviamente più informazioni relative agli step, ma possiamo andare a gestire sia il modello job per metodo che il modello job per prova, per prove chimiche, per prove microbiologiche. È proprio il laboratorio che poi va a scegliere come gestire il proprio modello, quindi come gestire tutti gli step sia a livello di prova che a livello di metodo. È proprio parametrizzabile dall'inizio alla fine. Certo, va bene. Quindi questo rientra nel discorso appunto della flessibilità e della adattabilità. Una domanda per il dottor Fagiolino. Se secondo lei è possibile valutare o stimare in qualche modo il livello di riduzione dei difetti di produzione che grazie a questi strumenti che si può raggiungere? Quali sono in generale il tipo di imprese che solitamente tende a dotarsi di questi sistemi? O magari tutte? La risposta dipende. Banalizziamo un attimo. Allora, parto dall'ultima domanda. Secondo me tutte le imprese che hanno la necessità di avere un processo lavorativo controllato, che significa come ormai abbiamo già fatto vedere, detto e ripetuto nei vari interventi, processi a step che sono controllati. La quantificazione delle imperfezioni dei controlli deriva difficilmente quantificabile a priori. È sicuramente un consolidamento del lavoro. Cioè ogni attività produttiva, ogni tipologia di attività produttiva sa benissimo quali sono le sue criticità. Il concetto di flessibilità, esposto precedentemente da dottoressa Braggione, è il focus. Non esistono sistemi standardizzabili per tutti, ma è chi fa processo, chi ha messo in piedi il proprio processo che in collaborazione con le software house o comunque con sistemi ELN in generale, adatta la propria richiesta al fine di andare a intercettare le criticità che ha sempre determinato. In un laboratorio come il nostro, soprattutto all'aumentare della numerosità del lavoro, avere degli step coordinati e controllati permette di diminuire sicuramente i ritardi, ad esempio. Il ritardo non è una vera imperfezione del prodotto, inteso come prodotto non conforme allo standard, ma per noi il prodotto si trasforma in servizio e quindi diventa una non conformità di servizio, cioè un ritardo nella comunicazione degli esiti. La dottoressa ha fatto l'esempio della microbiologia che ha delle analisi e ha tempistiche addirittura poco superiori alle 24 ore, quindi come vedete l'importanza di avere il processo sotto controllo è uno dei fattori molto richiesti in questo momento. Certo, chiaro. Un'altra domanda per la dottoressa Bregion che forse si ricollega alle precedenti, però magari consente di specificare meglio il tipo di prodotto. Se ci sono, sono previste delle versioni differenti del PLN che è presentato in base ai diversi tipi di laboratorio e di ambienti di lavoro. Ok, no, in realtà noi abbiamo questa versione che è inserita all'interno del nostro Active LIMS, quindi nel nostro LIMS di Polisystem, è l'ultima versione uscita, quindi ovviamente la stiamo sempre modernizzando, comunque inserendo anche delle altre informazioni che magari danno la possibilità di avere ancora più tracciabilità all'interno degli step e all'interno di un'analisi, ma questa è la versione, diciamo, vendibile e ufficiale. Possiamo ovviamente con il laboratorio, insieme al laboratorio, quindi tramite un lavoro insieme al laboratorio, possiamo andare a personalizzarlo, quindi magari inserire delle personalizzazioni che nella versione base non ci sono, ma che il laboratorio ritiene utili e indispensabili, noi le possiamo andare ad inserire, possiamo ovviamente elaborarle e andarle a programmare insieme e a gestirle poi a livello di laboratorio. Quando si installa il nostro quaderno elettronico di laboratorio all'interno del laboratorio stesso, non si lascia mai solo il cliente, si cerca sempre di andare a customizzare il nostro prodotto in base alle esigenze proprie del cliente. Ok, grazie. Per quanto riguarda la possibilità di allegare dei file o dei documenti, quali sono, se c'è un limite alle tipologie di file che si possono utilizzare e caricare nello strumento, quindi sono previsti anche la possibilità di inserire file di diverso tipo come video, immagini o altro. Sì, sì, in realtà si possono inserire qualsiasi tipo di file all'interno, sia a livello di job che a livello di singolo step, quindi possiamo andare ad inserire magari delle foto, dei file in pdf, dei video, quello che il cliente ritiene fondamentale che sia legato a quella determinata analisi. Possiamo andare ad inserire, non c'è un limite a questi file, diciamo, e questi file vengono caricati direttamente all'interno dell'IMSS, quindi non è un collegamento ipertestuale su magari il computer del nostro utente, ma vengono caricate all'interno del nostro LIMSS, abbiamo quindi un sistema che gestisce tutta la documentazione legata al nostro LN, al nostro LIMSS e quindi ritroviamo sempre i nostri file all'interno dell'IMSS senza collegamenti magari al di fuori e senza avere la necessità di andare ad avere sempre la nostra macchina operativa, quindi abbiamo la possibilità di gestire tutti i documenti legati, che siano allegati, note, qualsiasi tipo di informazione non strutturata legata al mio step e la possiamo gestire a livello di LIMSS. Bene, grazie. Una domanda per il dottor Fagiolino. Se a suo parere bisogna considerare anche degli eventuali rischi possibili insieme ai vantaggi che derivano dall'utilizzo di supporti informatici, per esempio nell'introduzione e nelle fasi di automatizzazione dei processi. Io il principale rischio che vedo è legato al fatto dell'introduzione di una nuova filosofia di lavoro, nel senso che tutti i sistemi che utilizzano un laboratorio hanno, o meglio quasi tutti, un sistema informatico che ha come output un file, che sia CSV, che sia Excel, che sia altri formati. E quindi proprio la volontà di far interagire le informazioni delle macchine con i LIMSS permette di eliminare un'altra criticità. La criticità vera che vedo è l'introduzione all'interno delle strutture sulle persone perché è una innovazione. Però, passatemi l'esempio più pratico, ormai tutti sulla scrivania o in tasca abbiamo un telefono con il quale facciamo tutto, quindi forse la stessa filosofia con cui siamo progrediti a livello telefonico, a livello sociale, lo possiamo fare tranquillamente con il lavoro. È ovvio che le criticità in tutti i processi dove c'è il fattore umano rimangono. Le macchine non potranno mai superire il verifico e i controlli. Però questo è uno strumento che, a mio avviso, permette intanto di invertire un pochettino la rotta, passare un'altra idea di lavoro e cercare di consolidare quei passaggi che permettono di migliorare il proprio servizio, il proprio prodotto. In tutti i processi c'è sempre un fattore di rischio. Il rischio zero penso che non esista da nessuna parte perché a quel punto elimineremo le competenze dei tecnici e credo che sia una cosa non positiva. è sicuramente la criticità di introdurre un cambiamento che forse vedo inizialmente. Però si è supportati dalle software house, si è supportati da sicuramente un'innovazione tecnologica che è a livello sociale ampiamente in fase evolutiva e quindi credo che sia una strada che si debba piano piano iniziare a percorrere. Poi ogni struttura avrà la capacità di introdurre un cambiamento nei tempi dovuti. Quello che forse mi permetto di osservare è che non si può pretendere di cambiare un processo lavorativo dall'oggi al domani. Sono processi che vanno studiati, vanno divulgati e soprattutto le persone devono essere coinvolte a questa filosofia di lavoro che ripeto già a livello sociale ci ha permesso di evolvere. Certo, indubbiamente, molto giusto, sono questioni con cui dobbiamo confrontarci ogni giorno in diverse situazioni di lavoro e di ricerca. A proposito di questo, di innovazione, dei cambiamenti con cui dobbiamo confrontarci, un'ultima domanda per la dottoressa Bergion, se sono prevedibili nuove versioni a breve dell'ILN e se si potrebbero pensare a ulteriori sviluppi grazie anche all'introduzione, chissà, perché no, questa è un po' più lanciata nel tempo, grazie alle novità dell'intelligenza artificiale, sì, potrebbero prevedere delle nuove versioni di questi strumenti. Ma comunque in generale se sono previste in arrivo degli update o degli aggiornamenti degli sviluppi di questi software. Se vuole rispondere anche in merito all'intelligenza artificiale, magari qualche cosa. Ok, no, in realtà noi come Software House siamo sempre in continuo movimento per quanto riguarda gli sviluppi dei nostri software, dei nostri LIMS. Abbiamo questo modulo che è una novità all'interno del nostro LIMS e quindi si evolve anche, come dicevo prima, legando tutte le informazioni che ci danno i nostri laboratori e tutti gli indizi che ci danno i laboratori per andare a inserire ancor più informazioni e ancor più tracciabilità dentro al modulo. Ovviamente l'intelligenza artificiale ci potrebbe aiutare tantissimo anche a livello di LN. Come diceva il dottor Fagiolino prima, effettivamente eliminare il valore umano o comunque andarlo a sopperire con l'intelligenza artificiale magari non si riuscirà, ecco perché effettivamente il valore dato dalle persone è fondamentale. però avere, e questo sicuramente lo svilupperemo, lo inseriremo all'interno del nostro LIMS magari con le prossime versioni, con degli upgrade magari che faremo, potremo andare a legare tutta l'innovazione, tutta l'innovazione che l'intelligenza artificiale sta portando quotidianamente nelle nostre vite anche all'interno dell'LN. Quindi per concludere posso dire che siamo sempre in continuo sviluppo e stiamo sempre ricercando nuove sfide anche a livello di quaderno elettronico di laboratorio e possiamo sempre venire incontro a tutte le esigenze del laboratorio stesso. Bene, grazie. Sì, delle nuove frontiere magari ne potremo parlare in un prossimo appuntamento. Bene, il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, quindi se non ci sono per ora altre domande dal pubblico, a questo punto quindi io ringrazierei tutti per aver partecipato, grazie ancora ai nostri ospiti, il dottor Ivan Fagiolino. Grazie a voi, buona giornata. La dottoressa Elena Bregion di Polisistemi Informatica. Grazie mille a voi. Grazie al nostro pubblico per l'attenzione e la partecipazione. Io ricordo a tutti che la registrazione del webinar sarà resa disponibile sui nostri siti appena possibile. Chi ha partecipato riceverà una comunicazione via email con tutte le info utili e il link relativo per accedere ai contenuti. Al termine del webinar avrete la possibilità di rispondere a un sondaggio di opinione relativamente ai contenuti di questo webinar. Se volete, grazie ancora a tutti. Appuntamento al prossimo talk di B2Better. Una buona giornata e alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.